Abbiamo un contratto scaduto da 12 anni con uno sciopero già dichiarato per il 23 settembre, quindi l'abbiamo fatto presente al prefetto, abbiamo una struttura importante nel nostro territorio, credo che sia giusto che i lavoratori siano tutelati fino in fondo dall'organizzazione sindacale. I lavoratori di Agazzi hanno protestato di fronte alla prefettura di Arezzo perché il loro contratto è datato 2012. Da allora non vi è stata né alcuna ricontrattazione né aumenti di sorta, ma non solo. Per gli iscritti alla funzione pubblica CGL che non firmò l'accordo 12 anni fa relativo al contratto, giudicandolo peggiorativo del precedente, la data di riferimento è addirittura il 2008. Inoltre l'Istituto di Agazzi ha annunciato il ritardo rispetto a quanto dovuto fanno sapere i sindacati modifiche organizzative e di orario di lavoro. Sostanzialmente l'Istituto ha riconosciuto il fatto che la comunicazione del cambio turno dovesse essere fatta in altri termini e di fatto quindi ha differito il cambio del turno che andava ad impattare sulla vita dei lavoratori in modo importante. Restano aperti molti altri problemi legati sicuramente al nuovo contratto nazionale che non sta andando tant'è che abbiamo indetto uno sciopero per il 23 settembre a livello nazionale e sulle possibili ripercussioni che comunque questo cambiamento di turno produrrà nell'organico perché una maggior diluizione dell'organico all'interno di più giorni secondo il nostro avviso comporterà di lasciare la struttura scoperta in alcuni servizi. Quindi abbiamo bisogno anche di un organico che come dimostrano anche i frequenti turnover, le frequenti uscite dalla struttura è una struttura che è in sofferenza.